Siamo qui a metà della via Ninobixio perché abbiamo notato che da alcune settimane c'è un buco nel manto stradale. Prima era segnalato con un cono stradale, adesso hanno messo un grosso che come potete vedere si può togliere tranquillamente con un piede. Quindi chiederò al sindaco di ripristinare il manto stradale in modo sicuro e non con un dosso e poi anche se potete vedere le condizioni del manto stradale di questa via che sono pessime, piene di buche, gli chiederò di sistemare questa via qui. Quindi farò una lettera scritta ed informerò anche i cittadini della via.